notatori notatrici ben ritrovati oggi torniamo a parlare di palette un attrezzo fondamentale per sviluppare la forza di braccia e spalle lo so che a certe volte è proprio pesante ma da notatori siamo abituati a soffrire oggi ho con me alcuni modelli di palette a marchio finis cominciamo subito col botto e vediamo le manta swing pedals per intenderci le palettone le palettone manta sono progettate per aumentare la forza e l'efficienza della bracciata e niente elastici con il loro materiale ultra leggero resistente e galleggiante ti garantiscono un comfort incredibile certo non posso garantirti che non farei fatica sei un nuotatore il loro design si adatta perfettamente al contorno delle tue mani insegnando di applicare una pressione uniforme durante la trazione i fori di ventilazione consentono all'acqua di passare velocemente attraverso la paletta consentendoti di mantenere una buona sensazione ideali per la notata stile libero ora ti mostro un altro modello di palette a marchio finis le iso queste palette ti consentono di isolare specifici gruppi muscolari e imparerai la corretta posizione della mano e della bracciata anche in questo caso niente elastici le palette iso di finis sono le uniche che creano uno sbilanciamento durante la fase di presa della bracciata è uno strumento molto versatile e infatti puoi utilizzarle per allenare la tecnica di tutti e quattro gli stili anche in questo caso le iso di finis si adattano perfettamente alla tua mano il comfort è incredibile adesso ti faccio vedere le agility paddles sempre di finis la forma ergonomicamente innovativa di questa paletta insegna al nuotatore la corretta posizione della mano grazie all'assenza di elastici l'esecuzione scorretta del movimento causerebbe al nuotatore la perdita della palette la forma convessa invece favorisce un'entrata corretta della mano in acqua e per finire vediamo le mezze palette istins sempre di finis il disegno ergonomico di queste palette incoraggia i nuotatori ad ottenere una migliore trazione la loro forma favorisce la corretta posizione del palmo della mano durante la remata e indovina un po anche qui nessun elastico la forma convessa di queste palette favorisce una presa durante il movimento di remata e ricorda il nuotatore di mantenere la posizione gomito alto anche in questo caso si tratta di una paletta molto versatile e disponibile nelle misure m ed l nuotatori nuotatrici non vi resta che consultarvi col coach per il modello ideale delle vostre palette finis e poi correre a comprarle presso lo store di viale del fante numero 54 g a palermo o su masternuoto.it master nuoto la vera passione per il nuoto dal 2004 ma no 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 no